Oh my... yo, yo! Le mie varie esplorazioni dei bassi fondi di internet. Questa cosa però, devo essere sincero, mi era mancata. Quella di cui vi parlerò oggi è un'esperienza che non ho avuto diverso tempo fa e che ho metabolizzato. Ce l'ho avuta stamattina, che ora sono adesso alle 10, ce l'ho avuta alle 7 e mezzo. Quindi il trauma è ancora bello fresco, siamo belli assolutamente non preparati per questa cosa. Ma se avete già visto questo video, sapete che il livello delle cose di cui parleremo oggi è davvero molto basso. Non starò qui a girarci intorno. In quel video abbiamo parlato di un'altra opera dello stesso autore di questo video, ovvero l'autore di One Man One Jar. In quel video un tizio, che poi si è scoperto essere un performer russo, si infilava un barattolo di vetro nel retto, che poi si è rotto, sempre all'interno della ripresa, lacerandogli le pareti interne. E lui, come se niente fosse, tranquillissimo. Si è messo un po' di cotone, un po' di cose, ed è andato in giro così, tutto lacerato e distrutto, per tipo due settimane. E non è la prima volta che ha fatto una cosa del genere. Se qualcuno avesse dubbi che questa cosa sia fake oppure no, vi assicuro no. Ed è stato anche intervistato, tra l'altro, dal sito di Gore più importante che c'è, almeno a livello pubblico. Ovvero Best Gore. Insomma, in questa intervista si parla del fatto che effettivamente questo tizio, nel video, non ha mostrato alcun segno, neanche un mezzo scossono, una mezza cosa. Niente, si è alzato, ha ripulito e si è tirato fuori piano piano quella roba dal corpo. E senza fare neanche il minimo verso, il minimo suono, dopo essere praticamente autoimploso, pulisce, mette a posto e si rimette tutto preciso, bello compito e composto. Questo video ha fatto parlare tantissimo di sé, però la nostra chiacchierata l'altra volta finiva qui. Ma come vi ho spesso mostrato all'interno di questo canale, su internet non si finisce mai di scavare veramente fino in fondo. E se questo tizio qui è veramente un performer, e lo è, deve essere passato prima da altre parti. Per arrivare ad avere quella reazione, doveva per forza aver fatto anche dell'altro. In particolare nell'intervista, si dice che One Man One Jar non fosse neanche lontanamente il suo video più cruento. E vi posso confermare, aveva ragione. Un sacco di persone, dopo il video che vi ho fatto qualche giorno fa, ha cominciato a parlarmi di un altro video in maniera molto insistente. Schifosamente facile da trovare, tra l'altro, sempre di quest'uomo. Non lo avevo mai visto prima. Devo essere sincero, e sinceramente stavo bene come stavo. Ma poche ore fa, come vi dicevo prima, dopo l'ennesima persona che mi ha chiesto per forza di parlare di questa cosa, ho deciso di volermi male e di cercare questo video. Almeno così, capito? Lo vedevo prima di parlarvene, e poi eccoci qua. E sto per parlarvene. Prima però, ragazzi, prima che il trauma mi pervada il cervello, sappiate che questa maglia che indosso adesso è di pampling. Trovate qui sotto in descrizione, nel commento fissato in alto, il mio link speciale. E il mio codice sconto gematria tutto maiuscolo. Usandolo non solo otterrete uno sconto su pampling e delle calze gratis, ma sosterrete anche il canale. E vi assicuro che video del genere probabilmente hanno più bisogno di quello che penso. Tornando a noi comunque, che ancora non ho capito perché sto facendo questo video. Innanzitutto, sappiate che questo video l'ho visto mentre facevo colazione. Ed è stato molto difficile vedere questo video mentre facevo colazione. E va bene che fare colazione con la matriciana non è tutta questa cosa da gentleman. Però, insomma, a livello di colore e di consistenza eravamo lì. Questo video è riuscito a farmi schifo, non sto scherzando. Se riesce a fare senso addirittura uno come me, che su queste cose sono più o meno anestetizzato. Insomma, c'è da fare i complimenti, tra virgolette, all'autore, perché, insomma, veramente gran bel prodotto. Si è davvero guadagnato un post onorare all'inferno, quest'uomo. Che cosa succede all'interno di questo video? Innanzitutto dura relativamente poco, come più o meno tutti quanti i video di questo genere. In questo caso siamo intorno al minuto e mezzo totale. Ma non ci sono introduzioni come in One Man One Jar, in cui almeno, capito, fa qualche passo, si posiziona e poi fa quello che deve fare. No, comincia tutto quanto in maniera super cruenta. Parteggiamo artoriato e vi avverto, da qui in poi non vi giudico se chiudete il video, ragazzi, perché fa veramente schifo. Anzi, ci sarebbe da farsi qualche domanda sul perché qualcuno possa arrivare alla fine di un video del genere, però, vabbè, tutti contenti. Devo trovare un modo per dirlo senza farmi bannare. Allora, questo tizio è svestito a gambe divaricate e fa la stessa identica cosa in una stanza anche abbastanza mal illuminata che ha fatto con One Man One Jar. Quindi, in una pozza di sudore, di liquami, di schifo, non so neanche che cosa sia perché liquide il genere da un corpo umano raramente non visti uscire, ci si siede sopra e lo ingloba. Lo ingloba all'interno del suo retto che probabilmente a questo punto può fare a gara con le dita dei monaci Shaolin per quanto riguarda la resistenza. Ma questa volta tutta la compostezza che c'era in One Man One Jar non c'è più. O meglio, c'è rispetto a quella di una persona normale, c'è da ammetterlo, ma, come ovvio pensare, non c'è più. Perché oltre a fare questa cosa, che cosa fa? Intanto che fa questo, parte già con un cacciavite ficcato nel suo apparato genitale. Sento il dolore già adesso. E fa tutto assieme, scivolando anche diverse volte. A volte mi sembra di aver visto delle convulsioni, ma, cioè, è comprensibile una cosa del genere, perché poi non è un cacciavite di quelli piccoli, è un cacciavite di quelli da ferramenta, quindi posso soltanto immaginare quanto faccia male una cosa del genere perché, cioè, è nel buco, madonna. No, io sarei svenuto 30 volte soltanto a fare una cosa del genere, no, veramente. Ma avete visto tante volte, ragazzi, fare delle cose molto fuori testa, ma questo neanche sotto il più grande pagamento del mondo. Oddio, possiamo discutere sulla cifra, ma non penso. Il video prosegue per un altro minuto circa con lui che si toglie tutta questa roba dal corpo spargendo sugo di pomodoro. È tutto succo di pomodoro, io do, tranquillo. Ma lo sparge ovunque come se piovesse. E niente, ragazzi, il video è tutto qui, non sto a farvi più di tanti preamboli, più di tante cose, perché all'effettivo non servono. Fa schifo e fa impressione oltre ogni limite immaginabile, perché un conto è sentirlo, non lo so, parlato, scritto, magari vederlo scritto, perché comunque prima di cercarlo ho voluto un attimo cercare di testare il terreno e di vedere che cosa mi sarei trovato davanti, perché se avessi aperto questa cosa senza sapere niente, non lo so. Non è tanto dissimile da tante altre cose che ho visto, però il fatto che sia una cosa auto-inflice è molto peggio, perché non è qualcuno che sta subendo qualcosa, è proprio una cosa di qualcuno che lo sta facendo apposta per attirare attenzione su internet. O più che attenzione, è una sorta di prestigio in questi ambienti. Quello che davvero mi chiedo, e dopo anni di esplorazione ancora non mi spiego al 100% questa cosa, è esattamente cosa possa esserci nella mente di qualcuno che decide autonomamente di mettere in atto uno spettacolo del genere sul proprio corpo per giunta. Non ha nemmeno un vero e proprio senso dall'intervista, si vede come proprio lo faccia per attirare soltanto l'attenzione di qualcuno che potrebbe dirgli oh, bravo, su internet. Cioè, questo è il traguardo di quest'uomo. Sicuramente in qualche ambiente un po' strano avrà qualche ospitata, non lo metto in dubbio, però, oddio. Ma soprattutto io non riesco a capacitarmi di come la gente questa roba se la guardi cercandola attivamente. Tolti quelli che vi ho mostrato a fine video che comunque sia è gente che faceva le reaction perché c'era il trend su YouTube. Guarda, un pochino glielo capisco. Ti vai a vedere il video che fa schifo, stai scioccato, però quelle sono, vai a vedere più o meno, reazioni di persone normali o comunque normalmente scioccabili. Per quanto possa essere normale mettersi a spippolare su un video del genere, e neanche io penso di essere più di tanto normale o comunque sano mentalmente per starvene parlando. Ma no, cioè, io vi parlo proprio di gente che non fa questa cosa perché gli fa schifo. No, no, prende e si mangia le patatine davanti a questa roba, come se fosse la propria serie TV preferita. E questa gente esiste e ne è piena internet. Talvolta arriva a comprarsi video di questo calibro perché a volte sono video soltanto sotto pagamento. Non se ne perde mezzo ed è scritto a ogni singola community che distribuisca questo materiale. Ragazzi, questo qui è l'identità di una persona che su internet esiste, un tipo di persona che esiste. Non è ovviamente un video molto famoso e più una cosa chiacchierata su internet ed effettivamente non so bene perché qualcuno ci tenesse così tanto che io la vedessi, però eccoci qua. Sinceramente vorrei soltanto una botta in testa in questo momento per dimenticare tutto ciò che ho visto, ma penso che con la consapevolezza di questa cosa dovrò convivere fino alla fine dei miei giorni che si spero sempre sia il più presto possibile di questo passo perché non è veramente... Va bene ragazzi, il video di oggi seppur breve ma molto molto intenso finisce qui. Vi ringrazio per avermi sopportato oggi fino a questo punto. Qui sotto avete il mio link di Pampling con il mio codice sconto Gematria tutto maiuscolo e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.